Sì, abbiamo dato tutte le dimissioni, le abbiamo consegnate in mano dei nostri capogruppo, sia noi della Camera sia il Senato, per cui siamo dimessi. Il Parlamento ha perso 200 tra deputati e senatori. Le abbiamo date al nostro Presidente Brunetta, come i senatori le hanno date nelle mani del Presidente Schifani, per cui noi da questo momento ci siamo dimessi.